Dunque, riprendiamo l'esercizio di ieri, dobbiamo finire il punto 1 e tuffarci nel punto 2. Solo una precisazione che mi è, diciamo così, emersa da un paio di domande che mi avete fatto ieri, sul fatto che il grafo, due persone mi hanno chiesto ma perché hai fatto un grafo semplice e non un multigrafo? Perché è possibile, data una coppia di stati, che ci siano tante coppie di avvistamenti che soddisfano questa relazione temporale? La risposta era qui. Qui dice che ci dovrà essere un arco, uno, tra una coppia di stati A e B, se almeno un avvistamento in B è successivo ad almeno un avvistamento in A. Quindi anche se ci fossero 100 avvistamenti in B che sono successivi a quelli in A, alla fine di arco noi mettiamo uno solo e quindi crea un grafo semplice e non un multigrafo. Questo è solo per chiarire il motivo della scelta. Il teso non diceva se il grafo deve essere semplice o no, però ci fa capire che tra ogni coppia di archi c'è un vertice solo. Nel dubbio chiedete sempre anche l'esame. Ok, allora noi eravamo arrivati a costruire il grafo, ci mancava solamente l'ultimo piccolo passaggio che era quello, qui è assunto il punto C, di permettere all'utente di selezionare uno stato e determinare gli stati immediatamente precedenti, immediatamente successivi, cose del genere. Ok? Allora questo lo facciamo in tre passaggi, nel senso che prima di tutto bisogna permettere all'utente di selezionare uno stato e questo significa andare a popolare la tendina con l'elenco degli stati. E poi gli altri due sono semplicemente due interrogazioni che dovremmo fare sul grafo che già abbiamo. Allora, partiamo dall'inizio. Devo popolare la tendina. Quando la popolo? Beh, la popolo dopo che ho cliccato su avvistamenti, lui costruirà il grafo e alla fine della costruzione del grafo conosce quali sono gli stati da mettere qua dentro. Chi lo fa? Lo fa il controller chiedendo al modello l'elenco degli stati. L'elenco degli stati già ce l'abbiamo perché, se non sbaglio, nel model, qua, abbiamo, no, non abbiamo l'elenco degli stati, ma abbiamo solamente l'anni avvistamenti. L'elenco degli stati ce l'abbiamo qua come variabile di crea grafo, ma questa variabile a questo punto tanto vale portarla su. Visto che poi mi servirà anche dopo, potrei ricostruirla dal vertex set. Però nel vertex set ce l'ho disordinati gli elementi, mentre nella query o sono già ordinati, non mi ricordo come io abbia fatto questa query, o comunque costa pochissimo ordinarli. Quindi mi ritengo come lista separata, così ce l'ho più carini da vedere. Allora, questo mi costa abbastanza poco perché basta prendere questa lista di stati, me la definisco tra le mie variabili private e stati e questo non creo una nuova lista, ma semplicemente assegno a this.stati il risultato del DAO. A questo punto, questa variabile stati basterà creare un getter che è ciò che serve al controller per popolare la tendina. quindi facciamoci un getter, public, lista di stati, di string, get stati, string con la R, return di spunto stati. Quindi in realtà è un'informazione che già avevamo, dobbiamo solamente riuscire a portarla fuori. a questo punto il controller la potrà usare. Dopo che abbiamo creato il grafo, quindi gli avvistamenti, fa il crea grafo, a questo punto può popolare la tendina con gli stati, conoscendo le informazioni degli stati che sono stati inseriti nel grafo. quindi abbiamo la box stato, che dobbiamo ancora decidere che cosa contiene, conterrà degli stati che per noi sono semplicemente delle stringhe, degli oggetti tipo string. la box stato, che è una combo box di string, item, get items, clear, cancelliamo eventualmente ciò che ci fosse e ci aggiungiamo add all, la collezione, collection, che arriva da model.get stati. e questo mi permette di popolare la tendina. un rapido controllo se funziona. quindi lanciamo l'applicazione, scegliamo un anno con pochi avvistamenti, così non impazziamo. clicchiamoci avvistamenti, lui mi calcolerà un grafo con 7 vertici, 7 stati quindi, e 22 archi. qui mi immagino di vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stati, in ordine alfabetico, che era ciò che volevo. ok, a questo punto devo implementare la semplice funzione dietro al bottone analizza. questa richiede che io stampi due informazioni, quindi avrò due metodi nel model che restituiscono rispettivamente la prima e la seconda informazione e poi controlli li prende e li mette in bella dentro l'area di testo. allora la prima informazione sono quali siano gli stati immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi allo stato selezionato, quindi in realtà parliamo di due metodi diversi a cui il modello può rispondere facilmente. quindi abbiamo un metodo che potremmo chiamare get stati precedenti ad un determinato stato e mi restituisce una lista di stati. e poi ci sarà il simmetrico get stati successivi. come faccio a trovare gli stati precedenti? beh, devo interrogare il grafo. questo è un grafo orientato, quindi dato un nodo, un vertice del grafo che ha rappresentato la variabile di stato, prendo i precedenti. per prendere i vertici precedenti possiamo andare a vedere, a cercare, ci sono due modi, la via lunga è quella di valutare gli incoming edges of, quindi dato l'oggetto graph al metodo incoming edges of stato e questo mi restituisce un elenco di archi, poi però una volta che ho elenco degli archi quello che mi interessa è costruire una lista con i vertici, quindi devo spezionare questi archi uno a uno e vedere chi ci stava dall'altra parte. oppure più semplicemente usiamo il metodo di utilità di graphs.predecessor list of che riceve il grafo, un vertice e mi restituisce direttamente una lista di vertici che sono esattamente i precessori del vertice dato, quindi in questo caso me la cavo con una riga sola. ovviamente dando per scontato che graph ci sia e stato sia definito e sia uno dei vertici del grafo. e la stessa cosa la possiamo fare già che ci siamo col stati successivi dove ovviamente chiameremo il metodo successor list of e qui ce la siamo cavata con poco perché c'era già il metodo implementato nella libreria. due righe in più invece la dobbiamo scrivere per quanto riguarda il punto 2 quali sono gli altri stati raggiungibili attraversando uno o più archi? in avanti non c'è scritto esplicitamente, io ho qua questo ipotizzo che si voglia attraversare il grafo in avanti, non indietro, quindi bisognerà fare in questo caso un'operazione di visita in profondità e un'ampiezza, a vostro piacere del grafo partendo dal vertice selezionato. quindi, ops diamo un altro nome, ristruttuisce sempre una lista di stati raggiungibili public lista di stati, list string cat stati raggiungibili sempre data string stato allora in questo caso devo creare un visitatore un iteratore che visita il grafo quindi ad esempio un bread first iterator string default edge bf v visita in bread first quale new bread first iterator andiamo a ricordarci cosa vuole come costruttore un grafo qui ci sono varie varianti a me interessa la variante in cui si è esplicito il vertice di partenza perché altrimenti due parti da un vertice a sua scelta quindi gli devo passare come primo parametro il grafo come secondo parametro lo stato di partenza andiamo a capo così si legge punto e virgola in fondo a questo punto a questo punto facciamo andare avanti l'iteratore salvandoci tutti i vertici che lui ha incontrato in una lista quindi una lista di string raggiungibili uguale new array list ops adesso sono finito ok new array list di string while bfv bfv punto as next finché c'è un prossimo vertice raggiungibili punto add bfv punto next itera finché ci sono i nuovi li aggiunge e avanza ovviamente l'iteratore e a questo punto possiamo restituire i raggiungibili dimmi dimmi scusa si poteva usare un set a posto della lista sì certo non so adesso si stampava due volte la lista vuol dire che la lista aveva il doppio degli elementi più volte vediamo se succede cerchiamo di capire perché 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 in realtà l'iteratore non dovrebbe restituirmi più volte lo stesso vertice cioè se lo fai col callback sì ma col vediamo c'è solo poi un dettaglio su cui non voglio però essere troppo pignolo qui parlava di altri stati quindi a rigore in quella lista io non dovrei includere lo stato di partenza cosa che invece mi viene restituito per primo quindi dovrei probabilmente cancellare per essere preciso il primo ma vediamo prima se funziona così prima di andare a mettere a posto prima di andare a fare i pignoli allora questi tre metodi li aggiungiamo al controllo li usiamo nel controllo e da questo punto nel metodo EndroAnalizza EndroAnalizza deve innanzitutto controllare se l'utente ha selezionato lo stato quindi prendiamo lo stato uguale box stato punto getValue null e a questo punto se stato uguale null fermarsi con un messaggio di errore devi selezionare lo stato e return altrimenti andiamo avanti e calcoliamo questi tre liste lista dei successivi getStatiSuccessivi list poi uguale copio incollo e sostituisco a successivi precedenti e poi alla fine listString raggiungibili uguale model punto get raggiungibili a partire da questo stato e adesso stampiamo ciò che abbiamo ottenuto Appentext dunque di diciamo stati successivi e ci aggiungiamo semplicemente successivi punto toString più a capo per i precedenti idem per i precedenti e poi per i raggiungibili magari aggiungiamo anche così e diventa più leggibile stato di partenza due punti stato così se dobbiamo fare l'interrogazione più volte riusciamo a leggere meglio mettiamoci una riga vuota dai ok così vediamo cosa succede qui non ho puntato tanto all'estetica ho usato semplicemente il toString della stringa che mi mette le parentesi quadre le virgole non è tanto bello da vedere ma l'importante è vedere se i dati siano giusti allora rifacciamo a partire il programma anno prendiamone uno di nuovo con pochi 46 scelgo lo stato analizza stato di partenza CA stati successivi ci sono 4 stati precedenti 2 stati raggiungibili 1,2,3,4,5,6 ce n'è uno che non è raggiungibile rispetto a tutti no? perché erano 7 listati quindi AZ non è raggiungibile in questo caso era precedente ACA ma non è successivo se io prendessi AZ probabilmente quelli successivi sono tutti vedi ah no AZ solo AZ contrario successivi ah no AZ era successivo ma non ah si no 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 ho sbagliato io non è AZ quale che manca? aspetta CA c'è AZ IL AZC ILM TXVA New York manca allora vediamo cosa succede con New York ok adesso New York lì ha tutti raggiungibili era prima di California con pochi è facile anche riuscire a capire come è fatto il grafo se prendiamo già degli anni in cui il grafo si è più grande diventa più complesso usare una componente connessa per trovare strade rilungibili usare una componente connessa per trovare strade rilungibili va anche bene nel senso che è un lavoro in più nel senso che qui non ci serve però alla fine nel calcolo di componente connessa internamente fa una visita quindi come? no no la componente connessa allora tutto il concetto di componente connessa ce l'hai su un grafo non orientato su un grafo orientato dovresti parlare di componente fortemente connessa in cui ci siano tutti gli archi in entrambi i sensi il connectivity inspector non so come si comporti sul grafo orientato in questo caso perché qui non è detto che sia fortemente anzi sicuramente connesso ma non fortemente connesso perché da da Z posso andare a a CA ma non viceversa quindi in questo caso non so cosa mi risponde però la cosa più semplice è fare la visita perché non ci interessa una cosa più complessa ricordate che la connettività ha senso chiedersela bene nel momento in cui abbiamo un grafo connesso o non orientato su un grafo orientato è un concetto un pochino più sfuggente riguardo riguardo a tua obiezione di prima a me la lista viene semplice quindi se c'è qualche parte o l'hai creata due volte o l'hai cancellata o l'hai stampata due volte perché l'operatore di visita restituisce gli stati una volta c'è qualche qualcos'altro qua si allora compare tra gli stati raggiungibili allora questo l'avevamo detto era il dettaglio che non avevamo ancora messo a posto si mette a posto facilmente perché di sicuro il primo elemento che mi ha restituito scusate, torno al modulo il primo elemento che mi viene restituito da questo next è proprio lo stato di partenza su qualunque algoritmo di visita il primo vertice è quello di partenza allora come faccio a non averlo posso fare due cose cancellarlo dopo che l'ho aggiunto quindi fare un raggiungibile il punto remove di zero mi faccio la bella lista poi tolgo il primo elemento oppure più facile ancora buttarlo via il primo via faccio avanzare l'iteratore senza salvarlo da nessuna parte non voglio salvare il primo elemento quindi sempre meglio non farle che farle e poi cancellarle quando si può quindi scegliamo di nuovo il nostro anno 1946 siamo affezionati stato IL e a questo punto negli stati raggiungibili IL non c'è più l'altro l'hanno cercato a New York ci sono tutti tranne se stesso ok questo conclude essenzialmente il punto 1 implementazione sappiamo non troppo efficiente perché stiamo facendo il grafo con tutte le combinazioni possibili e per cui negli esperimenti per riuscire ad avere dei risultati in debug ragionevoli prendiamo sempre dei casi piccoli se poi in una ottica di esame cosa mi conviene fare adesso ce l'ho funziona mi conviene modificare il crea grafo per renderlo più efficiente quanti punti prendo in più? zero mi conviene passare al punto 2? sì però se per passare al punto 2 devo debaggare tante volte magari su grafi un pochino più grandi magari mi conviene implementare perché vada più veloce per me ok? perché se devo testare su dei grafi un pochino più articolati di questi ho bisogno che quando faccio run mi risponda e non passino ogni volta 5 minuti perché il tempo passa purtroppo quindi è una scelta vostra da questo punto di vista noi come vi avevo detto la volta scorsa avevo aggiunto nel progetto questo file di testo che si chiama questo file SQL esempi query quindi se volete ottimizzare la crea grafo semplicemente basta usare quest'ultima query qua che mi da già l'elenco di tutti gli stati già gli archi da aggiungere allora ripassiamo effettivamente da minuti a frazioni di secondo altro lavoro che potremmo fare è aggiungere degli indici al database questa è una cosa anche veloce perché visto che facciamo molti confronti su country su state net su day time e il database guardiamo ha una tabella unica senza nessun indice l'unico indice che ha sulla chiave primaria id che in realtà non stiamo usando per nulla il d aggiungendo qualche indice probabilmente molte di queste query saranno più veloci se riusciamo questa query a farla passare da un decimo di secondo a un centesimo di secondo allora riusciamo già a guadagnare un fattore 10 a sforzo praticamente nullo quindi ci sono tutti piccoli ragionamenti che uno può fare se riesci ad avere quella diciamo così fermezza mentale calma durante l'esame per poterci pensare ok io direi che possiamo chiudere qui il punto 1 e passare al punto 2 quindi facciamo un piccolo commit così diciamo che soluzione punto 1 completa e passiamo un altro branch in cui lavoriamo sul punto 2 2 ok andiamo avanti da qua potete farlo anche voi lavorando in laboratorio quando faccio una cosa poi devo modificare un'altra mi faccio un branch mi faccio un commit anche senza fare push necessariamente su github basta che se voi fate il commit senza push rimane in locale ma poi potete tornarci indietro ah prima funzionava adesso non più tre minuti prima allora quando avete una versione che funziona tipicamente quella del punto 1 fatevi un repository locale fatevi un commit quella è se poi fate casino dopo distruggete tutto potete sempre tornare a quella e farsi vedere quella quindi sfruttiamo gli strumenti a nostro favore allora il punto 2 cosa ci chiede? una cosa relativamente semplice premiamo il bottone sequenze di avvistamenti e determina il cammino più lungo di avvistamenti successivi quindi devo creare una sequenza di vertici abbiamo già fatto una variante di un problema che abbiamo già risolto no? magari qualche piccola variazione a cui dobbiamo fare attenzione era quello degli stati l'abbiamo fatto anche sugli stati il cammino è lungo eccetera il cammino più lungo dove essendo il grafo non pesato lungo vorrà avere ovviamente il numero di di archi compresi nel cammino allora per non perdere la buona abitudine proviamo a farci lo schema della ricorsione facciamoci un file qua nel model .txt così ci ragioniamo allora cosa devo cercare? una soluzione completa è un un percorso nel grafo che posso codificare come sequenza di vertici il grafo è semplice quindi il percorso lo posso rappresentare come sequenza di vertici non mi serve rappresentare gli archi perché gli archi sono univoci una sequenza di vertici che potrei mettere in una lista questa è la mia soluzione che devo costruire in cui il primo vertice sia lo stato di partenza sia lo stato di partenza quindi la soluzione parziale è sempre un percorso parziale diciamo a cui posso ancora aggiungere dei segmenti quando è che la soluzione parziale diventa completa? quando non posso andare oltre quindi la condizione di terminazione qual è? la condizione di terminazione è che l'ultimo vertice della sequenza non ha più stati successivi che non siano ancora stati considerati quindi lo stato finale non posso dire la condizione di terminazione è quando la sequenza è lunga 5 lunga 7 non lo so anzi è proprio quello che voglio trovare quindi lo stato terminale della sequenza del percorso parziale della soluzione parziale non ha alcun non ha più nessun nessuno stato successivo successore nel senso del grafo che non sia ancora stato considerato nella sequenza ecco non l'ho detto prima una sequenza di vertici in cui il primo vertice del senso di partenza non vi siano vertici ripetuti cioè nel grafo magari c'è scritto California, New York poi posso tornare a California e andare a Wisconsin ecco questo non è un grafo non è un percorso semplice perché un grafo uno stato è ripetuto più volte non lo voglio lo voglio evitare quindi mi ricordo di scriverlo e allora la generazione delle nuove soluzioni qual è? è semplicemente trovare tutti i successori dello stato finale non ancora considerati non ancora inseriti quindi la condizione di determinazione significa che questi che non riesco a generare nuove soluzioni e quindi mi fermo cosa devo restituire? il programma cosa deve restituire? deve restituire la sequenza più lunga una ok? quindi nella condizione di determinazione devo restituire una sola soluzione quella per cui la size è massima quindi quindi non mi posso fermare appena trovo una condizione di determinazione devo andare avanti e continuare a cercare l'ultima cosa che scriviamo sempre qual è il livello della ricorsione in questo caso è molto semplice non ci serve forse neanche che rappresentarlo specificamente è la lunghezza del percorso parziale cioè ogni volta si aggiunge un elemento e quindi il caso iniziale cioè il livello 1 in questo caso è quello in cui ho una sequenza con il solo stato di partenza lo metto dentro il primo elemento è fisso ok? allora queste cose qua basta tra loro in Java a questo punto questi ragionamenti il nostro modello offrirà al controller offrirà al controller offrirà al controller due metodi no, un metodo, pardon che è un metodo che restituisce dunque vediamo il testo cosa diceva si stampi il percorso così ottenuto elencando gli stati in ordine in ordine di percorso quindi un metodo che restituisce una lista degli stati che corrispondono al percorso più lungo quindi di nuovo abbiamo un list di string get percorso massimo questo è il metodo pubblico che si avverrà probabilmente di un metodo privato in cui fare la ricorsione questo get percorso massimo ovviamente parte dalla conoscenza di uno stato di partenza e qui dentro ci faremo la parte di condizioni iniziali della ricorsione quindi avvio della prima chiamata ricorsiva ma come sempre conviene prima implementare il caso medio e poi dopo concentrarsi sul caso finale e sul caso iniziale quindi nel caso medio noi abbiamo la soluzione parziale ops, dove l'ho scritta? l'ho scritta qua la soluzione parziale che è semplicemente una lista di string una sequenza di vertici e dobbiamo cercare di farla crescere quindi qua allora abbiamo una procedura ricorsiva cerca sequenza e quindi e quindi lei riceve come parametro quali informazioni? beh, la lista parziale di stati e forse basta eventualmente se servirà altro lo aggiungeremo e quindi cosa deve fare? deve provare ad accrescere questa lista quindi quindi innanzitutto ci sarà la prima cosa in cui valuta la caso terminale la facciamo dopo poi invece c'è la ricorsione quindi la il passo ricorsivo che è composto da trova i vertici successivi e prova prova ad aggiungerli ciascuno di essi come faccio a trovare questi vertici? vado a prendere lo stato terminale della sequenza e vado a vedere quali sono i vertici successivi ma questo lo sapevamo fare quindi list di diciamo candidati i candidati a essere aggiunti non sono altro che gli stati successivi a che cosa? all'ultimo elemento della sequenza parziale parziale parziale.get di parziale.size meno 1 ce l'ho già al metodo get stati successivi l'ho riuso mi da già la lista di candidati questi questi sono tutti i possibili stati che posso aggiungere in fondo purché non siano già presenti nella lista quindi riprovo 1 1 for string prova due punti candidati prova 1 1 per 1 i vari candidati se la prova e lo stato che sto provando non è nella lista quindi not parziale .contains di prova se non lo contiene ancora provo ad aggiungerlo perché se lo contiene già non posso aggiungerlo altrimenti il cammino diventerebbe non più semplice questo contents che ho scritto qua mi fa subito pensare che se ho problemi di efficienza dovrei migrare trasformare parziale da lista a set perché il contents in un set significa calcolare la funzione di hash il contents in una lista significa andarsi a scandire tutta la lista ogni volta quindi può essere più pesante teniamolo presente così se volessimo quando sarà finito ottimizzarlo in realtà dovrei tenere sia la lista che il set perché mi interessa l'ordine con cui ho visto i vertici perché alla fine devo restituire un percorso non solamente un insieme quindi avrei le due cose mi porto avanti in parallelo una lista e un set quando faccio il contents non faccio il set che è più veloce e la lista la tengo come soluzione parziale della ricorsione non è un caso che abbia messo lista qui c'era proprio scritto abbiamo messo una lista perché mi serve una sequenza l'ordine è importante e però poi il non ci sono ripetuti chiama un set perché chiama il test di appartenenza veloce allora se la prova è un vertice nuovo provo ad aggiungerlo e quindi faccio al solito tre istruzioni di ricorsione parziale punto add di prova cerca sequenza di parziale ci sarebbe un level più 1 se lo volessimo mettere ma in realtà è già la lunghezza della sequenza questo livello e parziale punto remove parziale punto size meno 1 backtracking dell'ultimo passo e questo è il passo intermedio può darsi che in tutto questo foro nessuno dei candidati sia valido e allora faccio un giro vuoto e a quel punto avrò raggiunto il caso terminale se invece c'è almeno un candidato valido vado avanti con la ricorsione quindi non ho nessun test particolare per dirmi adesso mi fermo semplicemente se non trovo roba non vado avanti quindi quello che chiamiamo caro terminale in realtà va valutato in ogni volta cioè io comincio a guardare questa sequenza com'è? se è migliore dell'ultima che ho visto me la salvo e poi comunque vado avanti ad esplorare magari dopo nel foro della linea 87 troverò qualcosa oppure non troverò nulla quindi in questo caso devo salvare devo verificare se la soluzione parziale che ho per le mani è ottima se sì salvarmela rimpiazzando la precedente soluzione ottima se no vado avanti me ne frego allora qui devo ovviamente salvarmi da qualche parte la soluzione è ottima me la posso scrivere me la posso salvare in una variabile qua nel modello la soluzione è ottima che viene ovviamente inizializzata nella chiamante qua uguale new array list di string vabbè e nel caso terminale vado a verificare vado a confrontare se la lunghezza della sequenza parziale fosse per caso maggiore della lunghezza della soluzione ottima e la prima volta lo sarà di sicuro perché è ottima l'ho creata a vuota quindi avrà lunghezza 0 quindi se la dimensione di parziale maggiore la dimensione di ottima prendo parziale e lo copio dentro ottima allora dis.ottima uguale new array list di parziale ricordiamoci dobbiamo fare una deep copy e non una shallow copy del riferimento se non voglio fare una new array list devo fare un clear seguito da una doll cioè tolgo quello che c'era e aggiungo su dentro e basta nel senso che una volta che l'ho copiata vado avanti con la ricorsione perché se ho una sequenza da 3 nulla mi dice che non ce ne possa non possa aggiungere ancora uno stato per fare una sequenza da 4 alla fine di tutta la ricorsione ciò che c'è dentro ottima sarà effettivamente il valore migliore allora torniamo nel punto chiamante per avviare la ricorsione quindi la ricorsione l'abbiamo inizializzata con la soluzione ottima pari alla stringa vuota la soluzione parziale anche lei è un array list vuoto a cui aggiungo però lo stato di partenza come primo elemento non parte vuota questa volta ma parte già con un elemento dentro il fatto di aver già dentro un elemento mi ha permesso di scrivere questo di parlare dell'ultimo elemento dicendo sicuro che esiste perché quando ho costruito la lista ne ho messo dentro uno quindi sono sicuro che esista l'ultimo non c'è il rischio che questa parziale abbia lunghessa 0 quindi a questo punto posso semplicemente lanciare la ricorsione e restituire l'ottima al chiamante l'ottima la creo vuota e la procedura ricorsiva farà del suo meglio per rimpiazzare questa sequenza vuota con sequenze via via sempre più lunghe se le trova ok questo qua dovrebbe funzionare a meno di errori come sempre verifichiamolo andandolo a chiamare dal controller quindi abbiamo questo endo sequenza che anche qui andrà a leggere qual è lo stato selezionato quindi copio questo pezzettino qui dell'analizza e poi chiedo al modello di dirmi qual è il percorso massimo a partire da quello stato e quindi potrò scrivere che se lo stato di partenza è questo allora la sequenza massima è sequenza la sequenza la sequenza a capo la sequenza la sequenza la sequenza ovviamente percorso massimo conterra degli stati che sono un sotto insieme degli stati raggiungibili di quelli che avevamo calcolato prima perché i stati raggiungibili sono risultati di una visita in cui vado a sinistra trovo degli stati poi esaurisco i percorsi possibili torno indietro vado a destra trovo altri stati ma non è detto che poi possa aggiungerli cioè io ho un insieme di stati per cui non è detto che esista un percorso che li tocca a tutti mentre invece quando calcoliamo il percorso più lungo ci sono degli stati che sicuramente sono raggiungibili se no come avrei fatto mettere nel percorso se non fossero raggiungibili ma non è detto che siano tutti quelli raggiungibili quindi avendo già calcolato gli stati raggiungibili ho già un insieme ampio all'interno del quale so che come può essere composta la mia sequenza poi devo giocare sull'ordine degli elementi proviamolo allora andiamo sul 46 avvistamenti scegli uno stato sequenza di avvistamenti uno due tre quattro cinque sei se io parto da uno stato successivo che potrebbe essere qua che ha solo tre stati raggiungibili la sequenza più lunga in questo caso è qua in questo qua li raggiunge tutti sul grafico un pochino più grandi non è detto prendiamo il 47 che ha già qualche elemento in più quindi ci vorrà un attimo di tempo per avere risultato il grafo qui quando devo aspettare due tre cinque minuti per creare il grafo mi chiedo ma non è che in cinque minuti riesco a implementare la versione più veloce ok 20 vertici 246 archi a devo se ce l'hanno stato in questo caso penso la tanti successivi alcuni precedenti tanti raggiungibili sequenze di avvistamenti in questo caso è percettibile il tempo che ci mette la ricorsione perché effettivamente ho un grafo con 20 vertici quindi sto analizzando dei percorsi che possono avere fino a 20 elementi e purtroppo li devo fare tutti perché non c'è nessun return nella funzione ricorsiva che dice adesso puoi interrompere la ricerca quindi siamo su qualcosa che gira sul 20 fattoriale combinazioni come caso peggiore quindi non è detto che siamo così fortunati da poter vedere la risposta bisogna trovare dei casi intermedi perché qua ovviamente nella ricorsione la complessità non è come il database in cui magari riesco a guadagnare facilmente un fattore 10 qui aumento di 1, 2, 3 la dimensione del problema questa cresce esponenzialmente va beh aspettiamo un attimo ma il problema è che non so se devo aspettare un minuto o un anno dimmi la lista degli stati allora tu mi dici ma io posso controllare se questa lista di stati successivi è vuota e quindi non andare avanti questo come hai detto però la lista dei stati successivi non sarà vuota perché contiene perché è il grafo quindi il grafo contiene dei vertici semplicemente quei vertici successivi cioè i vertici io sono nel nodo California altre vicini ma quei vicini li ho già usati questo non posso sapere prima e quindi è proprio questo test qua questo test lo potrei fare questo è un modo l'altro modo è se lo vediamo un pochino più ad alto livello è fare una differenza tra insiemi sapete che c'è il metodo retain all che data una collection dovrei fare candidati.retain all di parziale e lui fa la sottrazione tra gli elementi che ci sono in candidati e gli elementi che ci sono in parziale e mi da la collection, in questo caso la lista che contiene gli elementi che c'erano nel primo e non nel secondo la differenza tra insiemi come la doll fa l'unione tra insiemi effettivamente il retain fa la differenza e poi iter sulla differenza ma non è che cambia tanto la sostanza sono una questione magari un pochino più veloce, un pochino più lenta ma concettualmente sono tutti i candidati di una collection che non sono contenuti in un'altra collection retain all forse può essere più efficiente questo qua sta girando dovremmo mettere qualche print per vedere a che punto è arrivato eventualmente vabbè l'abbiamo risolto più in fretta di quanto pensassimo no? nel senso che siamo in anticipo per cui se avete mentre aspettiamo che lui giri delle domande, dei dubbi su questo esercizio se volete che proviamo a implementare la versione più efficiente per la CreaGrafo abbiamo ancora tempo di farlo quindi se volete implementiamo la versione più efficiente per la CreaGrafo se noi invece avete altre domande e altre curiosità su questo esercizio rispondo prima alle vostre domande poi facciamo l'altra nei venti minuti che ci rimangono ok, allora torniamo sul punto 1 caro amico ti abbandono adesso girare via quindi questa parte qui va bene che lo avrò con un branch diverso quindi posso tornare nel branch precedente ah no, aspettate un attimo fammi fare prima commit soluzione punto 2 poi possiamo tornare si va bene, bravo possiamo tornare al punto 1 si, lo so che sta girando e l'unica modifica che vogliamo fare è farla nella CreaGrafo abbiamo detto per renderla più efficiente ovviamente che è qui quindi possiamo provare a sostituire questa parte con l'esito di questa interrogazione che avevamo su cui avevamo già ragionato insieme ieri che era quella che mi dava già le coppie di stati quindi questa cosa qui che mi da già gli archi essenzialmente poi c'è anche una colonna count di cui non mi interessa più di tanto allora c'è sufficiente a prendere il DAO aggiungere un altro metodo che mi restituisca una coppia di stringhe quindi mi serve innanzitutto un oggetto che contenga una coppia di stringhe questa è la parte più noiosa fare l'oggettino che contiene il risultato è una di quelle piccole cose che fa odiare Java una coppia di stringhe private stringa 1 private string str2 e poi mi serve i soliti costruttori getter setter ok quindi nel mio DAO posso aggiungere un metodo pubblico che mi restituisca una lista di coppie di stringhe e questo metodo lo posso chiamare get edges dammi già gli archi del grafo e sempre passandogli come parametro sempre l'anno quindi in questo caso la stringa sarà questa questa qui al posto di 1986 ricordiamoci di mettere il punto interrogativo spazio 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 e poi ho i soliti cinque istruzioni che metto in tutti i metodi del DAO connection uguale db connect get connection prepare statement uguale connection punto prepare vsql try catch imposto il valore del parametro intero anno quindi parametro 1 è anno punto get value eseguo la query uguale st punto execute query e poi estraggo i valori semplicemente quindi list di string pair list uguale new array list e while rest punto next abbiamo list punto add di new string pair di che cosa? di ah no qui si chiamano state e state e mi crea casino quindi li chiamiamo s1 s2 state 1 state 1 state 2 così le due colonne sono distinguibili altrimenti si chiamavano allo stesso modo e quando faccio il get get string di state non sa quale quindi devo andare a correggere questo la prima riga as state 1 as state 2 as state 2 quindi il primo parametro quindi sarà result set punto get string di state 1 e la seconda sarà result set punto get string di state 2 e punto e virgola aspetta che lo chiedo le virgolette è lì connessi un punto close e restituisci il risultato se no ok ok questo è il metodo che a questo punto possiamo chiamare nel nostro model al posto di questo doppio loop chiediamo al DAO che ci dia questa lista di coppie di stringhe che corrispondono agli archi del grafo che atteggi di anno che atteggi di anno e semplicemente for mentre navighiamo questa lista per sp2.archi vado a aggiungere un nuovo arco per ogni string pair quindi ovvero graph punto add edge sp punto get string a 1 sp punto get string a 2 quindi questo dovrebbe portarmi il tempo di costruzione del grafo da qualche minuto a un decimo di secondo in tutto vediamo se è vero vado sul main scelgo un anno a questo punto con un grafo grosso beh prendiamo una via di mezzo dai 78 avvistamenti vabbè ti pareva crea grafo 47 cosa ho fatto di male archi era null allora andiamo a vedere a monte perché archi era null dovrebbe essersi un'eccezione SQL ha un errore nel tuo sintassi SQL controlla bla 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 vicino alla chiusa tonda from siting s1 siting s2 come chiusa tonda non ce l'ho una chiusa tonda io dao si qua quando ho fatto copia in colla ho sbagliato ok rieseguiamolo allora riprendiamo il suo di prima era questo ah sì 35 stati scelgo uno prendo un altro più grande 160 stati sono 37 cioè 160 avvistamenti sono 37 stati 1.100 archi ne prendo uno di quelli da 6.000 avvistamenti e il grafo lo dovrebbe creare nel tempo della query 2013 abbiamo scaricato la complessità sul database e quindi in realtà tutto il tempo è il tempo che ci mette il database che a questo punto ha trovato 50 vertici e 2.450 archi ovviamente la query ci ha messo una ventina di secondi tanto per ottimizzare le cose probabilmente come vi dicevo lavorando sulla struttura della tabella creando degli indici che non ci sono si potrebbe questa query ci metteva 20 secondi quindi era ben percettibile ma io posso creare ad esempio aggiungere un indice non univoco no su state, su country semplicemente chiave ok un indice tipo chiave non chiave primaria semplicemente una chiave su date time su state e su country perché sono i campi su cui questa query sta facendo i confronti country state e poi day time quindi costruendo questi indici per curiosità mia vediamo questa stessa query che ci metteva 20 secondi se diventa più efficiente oppure no nel frattempo il nostro amico sta ancora girando eh sembra che sei buono non essere cattivo l'abbia fatto morire Heidi poverino vedete che è 2013 non è quello cattivo vai o che è stato più possibile vedete vedete siamo sempre sui 20 secondi non hai usato molto ok allora sul punto 1 abbiamo fatto questo miglioramento significativo quindi c'è permesso di passare dal grafico in fatica di 50 avvistamenti a grafi di migliaia nell'arco comunque di mezzo minuto i grafi di il 1900 no, il 2000 che usavamo prima viene realizzato in pochi secondi mentre prima ricordate lunedì ci aveva messo più di 5 minuti a costruire il grafo e l'analisi ovviamente avviene sempre istantaneamente la parte ricorsione non la provo neanche su questo grafo da 50 ovviamente ok allora adesso quindi possiamo fare anche un commit di questa versione più efficiente della CreaGrafo sta a voi appunto gestire dal punto di vista implementativo non ci abbiamo messo di più a implementare questa che non l'altra è semplicemente se riuscite a trovare il modo giusto di farlo io adesso vi lascio l'ora successiva faremo un altro esercizio sulla simulazione di Formula 1 domani facciamo la simulazione d'esame in laboratorio quindi facciamo come abbiamo fatto ieri non vi diamo nulla prima e vi daremo solamente all'inizio del laboratorio il link da cui scaricarvi il progetto vi ricordo lavorate sui computer del laboratorio non sul vostro portatile ok e io poi vi terrò i tempi così vi dirò a un certo punto a quest'ora l'esame sarebbe finito e secondo il livello in cui sbiancate vuol dire che siete più o meno avanti ci vediamo dopo l'intervallo grazie